Un cittadino americano, il 24enne californiano Matthew Todd Miller, è stato condannato da un tribunale della Corea del Nord a sei anni di lavori forzati. L'accusa aver compiuto atti ostili dopo essere entrato nel paese in possesso di un visto turistico. Miller avrebbe stracciato il proprio visto e richiesto asilo a Pyongyang appena giunto nel paese. Le immagini del processo pubblicate dall'Agenzia di Stato nordcoreana mostrano le prove a carico di Miller, il visto strappato ma anche dei fogli di carta contenenti l'ammissione di colpa dell'imputato che avrebbe scritto di far parte dell'organizzazione di Assange e Wikileaks. Informazioni tutte da chiarire. Quello di Miller non è l'unico caso. Qualche mese fa un altro statunitense, Kenneth Bray, è stato condannato a 15 anni di lavori forzati per aver lasciato una Bibbia in un luogo pubblico. Un terzo cittadino, Jeffrey Fowley, è invece in attesa di processo. Da Washington alla richiesta di rilasciare i tre detenuti.